ok va bene vai vai fammi sta domanda che mi piace vai vai che so anche come risponderti ciao ragazzi siamo giunti alla quarta settimana della preparazione della mezza maratona e maratona primaverile vorrei ricordarvi che ormai manca soltanto un mese alla preparazione della Roma Ostia e poco meno di due mesi alla preparazione della maratona di Milano quindi i tempi stringono ma se avete seguito il programma delle ultime settimane sappiate che questa è una settimana di riposo quindi Andrea Soffientini vi racconterà come riposare al meglio come sfruttare il carico che avete effettuato nelle ultime tre settimane in effetti l'idea è quella proprio di tirare un po' il fiato però sappiate che vi aspettano ancora delle settimane di carico e quindi questa settimana non fatela in maniera esagerata alla fine del video Andrea vi racconterà tre cose sostanzialmente quello che ci avete chiesto è stato quale scarpe utilizzare vi darò qualche consiglio soprattutto c'è stato anche chiesto come sfruttare le ripetute in salita e come effettuarle e infine una delle domande più frequenti è stata il test gara quale test gara effettuare per la mezza maratona e per la maratona andrea anche lì vi darà la sua risposta lascio quindi la parola ad Andrea che vi racconterà la prossima settimana ciao a dopo ciao Andrea spero tutto bene ciao maxi tutto a posto siamo giunti alla quarta settimana della preparazione della mezza maratona della maratona primaverile che cosa ci suggerisci per questa settimana allora arrivata alla quarta settimana è in uno schema basico tre settimane di lavoro e la quarta settimana invece c'è teniamo per riposo quindi di recupero faremo un lavoro solamente il mercoledì lo facciamo aerobico quindi vi propongo un medio che non non ci dovrebbe più sovraccaricare più di tanto e lo teniamo 15 secondi più lento 10 15 secondi più lento dal ritmo mezza maratona ipotetico e invece la domenica ci teniamo un 18 20 chilometri lenti blandi sempre per fare un buon lunghetto ma senza caricare più di tanto e quale differenza vedi tra gli amatori e principianti questa settimana direi niente per nessuno dei due i principianti devono valutare un attimino le loro condizioni vari doloretti e compagnia al massimo tagliare una giornata di allenamento mentre per per gli amatori direi chilometraggio settimanale di tenerlo uguale tanto togliendo un lavoro direi che dovrebbero rifiattare abbastanza essendo giunti alla quarta settimana di preparazione cosa consiglia queste persone un massaggio da un fisioterapista lo farei che va sempre bene o una gita alle terme anche con la moglie con la compagna o il compagno e invece per chi si prepara per la maratona di milano di roma cosa cosa suggerisce per la maratona terreno stesso medio sempre il mercoledì che che mi piace di 18 chilometri ritmo maratona 5 secondi più lento della maratona sempre vale il discorso che per i principianti di fare un attimino più forte del ritmo maratona che pensano di tenere a milano a roma e la domenica o lungo da 25 e 28 chilometri e invece a livello di scarpe potresti darci qualche consiglio oppure ritieni che non sia rilevante diciamo che siamo arrivati alla quarta settimana è passato un mese non dovremmo averla ancora finita le scarpe il consiglio che danno tutti e che che darei anche io è comunque di ruotare una scarpa per fare i lavori e una scarpa per fare lenti magari tenere una scarpa nuova quando si fanno i lunghi che a me piace molto correre con una scarpa nuova ai lunghi e invece andrea ci hanno chiesto informazioni sulla modalità di svolgimento delle ripetute in salita ok c'è questo questa diatriba io faccio fare sempre qualche lavoretto svelto prima e poi le salite per fare un lavoro abbastanza completo non faccio mai velocità dopo non crea la trasformazione famosa all'italiana le salite le facciamo circa 100 metri 120 metri forti ma non fortissimi cioè non state a fare lo sprint della vita andate su di buona lena ma non state neanche guardare il cronometro arrivate ritornate in suplesse magari non troppo lenti per per non sparare troppo forte le ripetute comunque non è un ritmo esagerato direi all'incirca ritmo dei 10 chilometri siccome siamo quasi giunti a metà febbraio mi chiedevo soprattutto per chi pensa di preparare la mezza maratona c'è qualche consiglio ulteriore che vorresti dare visto che ci avviciniamo già alla gara allora come vi ho detto prima la settimana di che io prenderei di recupero da tre settimane di carico se qualcuno vuole valutare di farsi una mezza maratona tirata per vedere un pochino le sue condizioni io la consiglierei anche a questo punto accorcere il medio del mercoledì e valutare di andare a fare una una mezza maratona di prova che c'è verona che sono campionati italiani io personalmente sulla mia preparazione ho optato fare questa mezza tre settimane prima della roma ostia ci casca pennello anche per capire un attimino e valutare le condizioni e invece per chi pensa di correre alla maratona di milano e di roma che test suggerisce la mezza maratona è sempre un buon test per qualcuno potrebbe essere fasulla perché un po troppo corta però per valutare le condizioni fisiche la potremmo tenere lo stesso vale il discorso che il medio non è più da 18 chilometri ma lo farei di 12 14 chilometri sempre mercoledì grazie andrea i tuoi consigli sono veramente sempre preziosi ci sentiamo alla prossima speriamo alla prossima ciao 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 ragazzi siamo tornati sulla famosa panchina spero che il video vi sia piaciuto se avete dei commenti ovviamente sempre qua sotto se avete delle nuove richieste saremo in grado di esaudirle nelle prossime settimane sappiate che mi è stato chiesto di sviluppare ulteriori due rubriche la prima relativa all'alimentazione con sis parleremo nei prossimi giorni di come preparare la maratona di milano inoltre molti ascoltatori ci hanno anche chiesto sapendo la mia passione per la tecnologia di parlare di tecnologia e soprattutto di come la tecnologia può aiutare il podista a migliorarsi nei prossimi giorni ne parleremo con marco altini uno scienziato italiano immigrato in olanda che ha sviluppato negli anni scorsi hrv for training che è uno strumento che personalmente utilizzo per stabilire qual è il mio carico di allenamento e come allenarmi in maniera efficace ci sentiamo quindi nei prossimi giorni e come come al solito se avete domande sono sempre a vostra disposizione ciao a presto ciao tanto mi ripasso la settimana vai ripassati